Bari ha reti inviolate per la Turris che porta a casa un prezioso punto dalla trasferta di Latina e accorcia le distanze sulla Jepison ora lontana solo 4 punti. Partono bene i corallini che già al dodicesimo si rendono pericolosi con Longo che da pochi passi trova la risposta di Tonti. Poi sono i neri azzurri a rendersi pericolosi con Rossetti che da centro area spara alto sulla traversa. La ripresa si apre con una grande occasione per la Turris e colano da posizione definata prova la conclusione che sfiora l'incrocio dei pali. Rispondono i pontini ancora con Rossetti che manca l'impatto col pallone su un bel cross di San Nipoli. Ancora Latina pericoloso ma il colpo di testa di Belloni è facile preda di Fasolino. Alla mezz'ora gol annullato ai padroni di casa per fuorigioco di De Santis. Finale di marca Corallina. Schirò colpisce male da centro area poi guida da sinistra prova il diagonale che finisce a lato e nel recupero Ercolano costringe Tonti alla parata che salva il risultato. Finisce 0-0 con il rammarico finale della mancata occasione di uscire dallo Stadio Francioni con il bottino pieno ma la Turris ora ha la grande opportunità di rientrare concretamente nel discorso salvezza già nel turno infrasettimanale a Liguri contro la Germison in quello che è un vero e proprio scontro diretto.